Scusate, per fortuna non vi è successo nulla. Scusate, avrei potuto uccidervi. Veramente non so come scusarmi. Sto tornando da una serata con gli amici e mi ha preso un colpo di sonno. Non mi sono reso conto di come stavo guidando. So solo che ad un tratto ho visto un bagliore fortissimo davanti a me e non ho capito di cosa si trattasse. Ma è stato proprio grazie a quella luce forte che mi sono svegliato di colpo e sono riuscito ad evitarvi. Che strano però. Non mi sembravano i fari di un'auto. Erano troppo forti. Sembrava che avvolgessero qualcosa. Ok Antonio. Allora è stato un piacere dirigerti per la grande disponibilità che hai dimostrato perché la disponibilità è il primo grande vantaggio dell'attore. Perché essere a disposizione del direttore e quindi avere la possibilità, come dire, di aprire la mente per incarnare il carattere che deve andare a recitare è la cosa più grande. È il modello più importante a cui un attore dovrebbe ispirarsi. E tu hai dimostrato questo. Sei stato bravissimo. Dylan è il personaggio che ti calza perfettamente. Grazie ancora e benvenuto nel cast di Life. Grazie. Grazie a te Alex per le belle parole. Per l'opportunità che mi hai dato di far parte di questo grande cast del doppiaggio. Perché ci sono dei nomi di doppiatori famosissimi all'interno di questo Audio Movie. Quindi sono veramente eccitato per questa partecipazione. Ti volevo lanciare un ultimo messaggio che hai visto? Insieme ce l'abbiamo fatta. Audio Movie. La realizzazione di una colonna audio come fosse quella di un film. Solamente che le immagini le mettete voi. Insomma, signor Templar, neppure lei si rende conto che questa conversazione si rasconde la minaccia di una vita. Lei ti sorride di rimando. Sarà come assistere ad un film senza vedere le immagini. Io vi dissi di amarvi e procrevervi. Con l'Audiomovie diamo e vogliamo conservare la possibilità all'ascoltatore di continuare ad immaginare attraverso la propria creatività ciò che sta ascoltando. Io vi dissi di amarvi e vogliamo conservare la possibilità di un film senza vedere le immagini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.